Al 44 è entrato in contatto con il Vice Bugatti Club tramite l'Accademia e il professor Giovanni Giovane che è il professor dell'arte contemporanea e che di conseguenza ci ha messo in contatto con il presidente del Vice Bugatti, cioè Luigi Manuel Rossi. Con Luigi si è pensato a quello che poteva essere un dispositivo interessante per una mostra relativamente al premio del Vice Bugatti e sicuramente in dialogo con la pittura. Quindi come studenti e come persone che vivono quotidianamente l'Accademia abbiamo da subito cercato un confronto con i nostri colleghi e abbiamo cercato di capire come realmente la pittura a livello di formalizzazione nel contemporaneo sta venendo trattata dai nostri colleghi. Il collettivo ha scelto di presentare un progetto, un ditorato Vizi di Forma, che ha visto il lavoro di otto artisti, Ander 35, tra cui Dior Eugenia Del Magro, Jessica Ferro, Alberto Pinelli, Adi Axiai, Aldo Lurgo, Dario Maglionico, Thomas Calco e Aldo Sergio. Ovviamente le opere non sono state prodotte se specifici, ma erano delle opere su cui i vari artisti avevano già lavorato e che abbiamo selezionato per poter dare quello che fosse un quadro più veritiero e più fedele a quello che attualmente è la pittura a Milano e in generale l'esperienza di tanti artisti e pittori nel contemporaneo. Dopo appunto esserci confrontati con i vari artisti con cui siamo entrati in contatto in questi ultimi due anni, abbiamo scelto, dato anche quello che era il tempo di residenza verso il vice bugatti, di utilizzare lezioni americane di Italo Calvino nel contesto del 1895, che l'autore aveva presentato tramite delle lezioni ad Harvard. Si poteva benissimo prestare a quello che era il nostro presento foratoriale, a quel che è appunto il suddiviso in cinque lezioni, che sono appunto la leggerezza, la rapidità, l'esattezza, la visibilità e la notificità. Abbiamo scelto di chiamare questo progetto tra paretze. Grazie a tutti.